Un gol per parte, un punto a testa. Finisce così tra Foggia in Cedit e Manduria. L'undici, Foggiano, all'esordio casalingo in questa stagione, cancella lo zero in classifica al secondo tentativo dopo la sconfitta in trasferta contro il Canosa. Ha il debutto in questo campionato di eccellenza. I Tarantini invece danno seguito al convincente successo interno contro il Biceglie. Meglio gli ospiti nella prima frazione, più pimpanti i padroni di casa nel corso della ripresa. Partita tutto sommato gradevole, quella andata in scena al campo sportivo ex fisici di Foggia. Manduria un paio di volte è pericoloso nel corso del primo tempo. Manduria che trova il guizzo del vantaggio prima dell'intervallo e De Sagastizabal ad indovinare l'incornata che porta in vantaggio la squadra guidata da Max Marsili. 0-1 a metà gara. Il match però torna in equilibrio in apertura di ripresa. Dopo due minuti l'arbitro indica il dischetto per questa trattenuta di Teixeira in area ai danni di Siclari. Lo stesso capitano del Foggia in Cedit si prende la responsabilità di calciare dagli 11 metri e non perdona con il destro. 1-1 succede poco in realtà sino al triplice fischio. Primo punto in campionato per la squadra di Enrico La Salandra. Diventano quattro invece quelli dei Tarantini. Domenica prossima il Manduria ospita il Polimia per la terza di campionato. Foggiani invece di scena a ruvo contro il Corato. Prima però c'è la Coppa Italia dilettanti con le gare d'andata del primo turno. In scaletta giovedì prossimo Manduria brilla campi e Foggia in Cedit Canosa. Grazie. Grazie. Grazie.